Presidente di Commissione della provincia, è stato il segretario di partito, è stato un attivista serio e per tanto tempo nelle stati di Cattipoli, è uno che ha tanta stima in giro e come tutti c'è sempre questo che non condivide, barba o che che sia, via c'è la Commissione. Sarebbe apertamente, sarebbe la nuova di tutto, con il corgiore, chi ti condivide, chi ti combatte, chi non ti supporta e c'è quello che direttamente in posizione opposta, chi supporta alla grande. Non supporta, supporta, ma chi ti guarda più domande, chi prende le campagne. Noi da domani salgiamo il nostro compagnie interista, il dottor Sanlino Spada, che tra l'altro 30 minuti, più in alto non è possibile che vogliono andare in stanza. Quindi noi, dopo questo momento, diamo un corso alla campagna elettorale, all'inizio campagna elettorale, che alla quale ci serviremo con tanta empe, con tanta dedizione e con tanta entusiasmo, perché veramente, ovviamente tante volte che sembriamo passeggiata, stavolta ci siamo, ci sono, in 4-5 amministrati e noi abbiamo un compito, quello di difendere a testa alta e con le zande pronte a sgranare chiunque, che non si comporta bene all'insegna della moralità e dell'avanti tutta. Avanti tutta significa, avanti tutta, per il bene della nostra comunità, che è quella di Gallipoli e dei Gallipolini. Abbiamo quasi per risposto, non definito, un programma da realizzare, che non è la...